sono qui con alessandra che su youtube si chiama paradise now il paradiso adesso che comunque è in descrizione se siete interessati a vedere il suo canale quello che pubblica c'è il link descrizione comunque paradis now buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce oggi sono qui non sono da solo perché voglio inaugurare un format un po particolare che non so se continuerà perché dipenderà da voi ovvero oggi farò una chiacchierata con alessandra ciao alessandra innanzitutto alessandra vive in germania giusto giusto colonia quanti anni hai se vuoi dirlo non si chiede ad una donna ma io lo dico ne ho 38 38 anni dalla germania diciamo fuoriuscita dall'italia nel lontano 2006 avevo 26 anni laureata in ingegneria in italia e dottorato in repubblica cieca perché dopo l'italia santa in repubblica cieca e poi in germania giusto giusto esattamente ho fatto il trio ecco voglio inaugurare voglio inaugurare questo forma che consiste in una chiacchierata ora parto con alessandra ma prossimamente potete offrirvi anche voi vorrei fare una chiacchierata simile a quella della prima puntata la chiacchierata si svolgerà in una serie di domande reciproche ovvero io domanderò qualcosa a lei lei domanderà qualcosa a me o forse partiamo prima con il contrario prima lei a me molto così una chiacchierata molto amichevole che però può dare spunti interessanti mi piaceva l'idea di fare questa serie di interviste reciproche non per forza con vip persone ultra famose ma persone di tutti i giorni normali con la propria vita le proprie idee le proprie esperienze quindi dalla parola a te vuoi iniziare a domandarmi qualcosa o inizio io a te cosa facciamo volevo chiederti una cosa se è possibile ho notato una certa evoluzione nei tuoi video guardando magari un video di cinque anni fa quattro anni fa avevo notato magari delle tinte un po più grigie invece adesso i tuoi video sono molto più pieni di colore e per quello che so di psicologia che non è molto può essere che anche il tuo umore o la tua visione del mondo sia leggermente migliorata o per quanto possibile più ottimista cosa ne pensi condividi ma intendi un colore della mia pelle che prima ero più pallido ora sono più abbronzato no no vabbè siamo tutte e due molto bianchi purtroppo io poi sono un cadavere ma notavo negli sfondi nei colori e anche nell'atmosfera così in generale mi sembri un po più scherzoso un po più ottimista allora bella domanda io diciamo che per quanto riguarda i colori non sicuramente non ho cambiato i colori non c'è stata un'evoluzione in quel senso coscientemente cioè non è che io ho iniziato a modificare un qualcosa in quel senso però appunto se è come dici tu potrebbe essere magari il mio umore è un po in parte cambiato e di conseguenza senza accorgersi senza accorgermene ho diciamo modificato il tutto ho evoluto il tutto portando con me anche il colore in quel senso lì questo non lo so può essere però riguardo il mio umore rispetto a 5 7 anni fa sicuramente sì sono di umore migliore sì forse qualche volta in qualche video l'ho detto ma non fosse non non in un video specifico qualche live sì sicuramente da un paio d'anni a questa parte il mio umore è più alto diciamo che è un crescendo anche 5 7 anni fa quando mi vedevi un po grigio ero già di umore migliore rispetto magari a dieci anni prima quando però non facevo video su youtube e magari nessuno mi conosceva diciamo che quando avevo 18 19 anni ero nero poi sono diventato grigio e oggi sono diventato verde no vabbè oggi sono diventato più multicolore però sì credo che io parlo spesso di consapevolezza no secondo me nonostante la lucidità il guardare in faccia la realtà porta con sé anche diciamo cose spiacevoli anche inquietudini ansie nervosismi secondo me se si prende la strada giusta se si elabora al meglio questa consapevolezza la consapevolezza porta con sé anche un aumento del proprio livello di umore ne sono sempre più convinto poi magari non per tutti la strada è la stessa magari per qualcuno è più difficile per qualcuno è più facile a seconda della propria storia soggettiva ovviamente ogni vita ogni vita è diversa ogni esperienza è diversa ogni passato è diverso però nel mio caso la crescita della consapevolezza ha portato con sé una maturità maggiore è anche un benessere maggiore che non è ovviamente assoluto anche in momenti no però sicuramente mi sento meglio di anni fa e può essere legato per esempio al fatto che sei diventato più sicuro di te stesso sì sì io penso che la il benessere l'umore sia legato quasi esclusivamente al 90 per cento al rapporto che c'è con se stessi quindi la sicurezza la propria autostima il proprio equilibrio interiore poi fosse se devo usare se devo mettere al centro del diciamo di cosa può essere importante per l'umore e l'animo sicuramente anche la salute perché è chiaro io posso anche dire ora sto bene equilibrio se domani viene un cancro probabilmente non mi lascia indifferente quindi sicuramente la salute è importante al di là di qualsiasi consapevolezza però credo molto che quello che si intende per benessere felicità gioia andrebbe molto ribaltato la nostra società perché c'è quello che ti capita e basta mentre in realtà non è tanto quello che ti capita o non ti capita a livello lavorativo a livello anche di relazioni che influenzano il tuo amore ma soprattutto come tu reagisci a quello che ti capita e quindi magari a me può capitare domani una cosa che mi è capitata anche dieci anni fa ovviamente dieci anni fa mi struggevo l'animo ora magari ci rido su quindi conta più che altro come si reagisce alle cose ovviamente al netto delle cose estreme se mi muore un caro domani non è che lì stai male basta insomma sì lì sarebbe psicopatia ridere scherzare o psicopatia oppure sarà diventata una specie di di ascetta che vive nelle montagne totalmente distaccato da tutto e utopico e diventare non c'è neanche bisogno di diventare così insomma ok benissimo e come ti rapporti tu con la religione perché nei fatti di video però secondo me non è mai abbastanza perché comunque ti parlo da persona che vive a colonia non so se è arrivata la notizia in italia ma c'è stato un altro attacco e hanno dovuto fermare tutto il traffico alla stazione principale di colonia il mio uomo il mio ragazzo è tornato con tre ore di ritardo perché c'era polizia sequestri di persone fumo di tutto un attentato quindi recente dice icono però non si sa se è di matrice islamica hanno anche paura farlo sapere perché colonia ha già avuto i fatti del 2015 2016 è sempre delicatissimo parlarne perché in germania c'è l'estrema destra che appena si sa qualcosa ne approfitta per cui sempre la religione per me è un tema proprio pericolosissimo sì sì è un argomento anche un argomento anche vastissimo sicuramente è difficile affrontarlo in pochi minuti pochi secondi però sulla religione cosa posso dire per me le regioni andrebbero tutte abolite a partire dal dall'ora dall'ora a scuola anche se poi molti in quell'ora magari fanno attualità non tutti fanno una sorta di catechismo leggono il vangelo però ma è assurdo che ci sia un orario di regione io sono contro contro la religione in tutti i casi sia quando diventa violenza e ovviamente quello è il caso peggiore violenza strage omicidio fanatismo di quello stampo lì ma anche quando apparentemente più innocua a me non piace perché mette al centro troppo l'irrazionalità l'irrazionalità più negativa che ci possa essere e secondo me quando uno è totalmente irrazionale e si affida alla fede si affida alla religione poi rischia di essere irrazionale in tanti campi della vita perché si affida i dogmi si affida a quello che già è stato detto o scritto e se uno è così in campo diciamo filosofico esistenziale no la regione risponde o risponderebbe a delle domande perché sono qui qual è il senso della vita se uno è fanatico in quel senso lì suona il mio telefono giustamente la sveglia sono 16 50 la mia sveglia perché mi sveglio a quest'ora così diamo occasione ai miei haters di dirmi vergognati ti svegliai 16 50 sì il mio orario è 16 50 io avevo degli haters che hanno deciso che io mi alzi alle 11 del mattino solo che la scuola inizia alle 9 quindi io vado indietro nel tempo oppure ho la facoltà di seguire le lezioni dormendo che è sempre stato il sogno della mia vita ma no in realtà è perché ieri dovevo andare a fare un'ecografia avevo messo ai 16 50 per ricordarmi che a 17 30 dovevo andare lì comunque no per concludere con la risposta volevo solo dire che se uno è dogmatico fanatico non ha al centro della propria mente il senso critico poi rischia di non avere il senso critico al centro in generale della propria vita e questo può essere davvero devastante nei rapporti con gli altri nei rapporti coi figli c'è il rischio di non avere una capacità di saper mettersi in discussione e saper mettere in discussione le cose a quel punto si è chiusi si è gotti si è passivi si è morti si è morti anche se vivi poi ovviamente non è che tutti quelli che credono ad una religione o ad un dio sono così ci sono tanti livelli ho massimo rispetto di persone che credono se non vogliono imporre la loro mentalità se bene o male lascio una finestra aperta del dialogo però in generale io non vedrei nella religione un qualcosa di positivo ed è un grandissimo tabù perché tu anche in italia quindi non soltanto i luoghi diciamo dove la religione oggigiorno è ancora violenza e massacro non puoi dire nulla contro la religione perché è considerato un qualcosa di non so di offensivo di poco di poco rispettoso quando in realtà è voler far credere magari a tutti i costi che esista un dio dare così santo spazio papa francesco che parla da san pietro come se fosse un evento importante quello per me è offensivo nei confronti dell'intelligenza perché lo si può anche fare ma bisogna prendere la religione per quello che è invece c'è troppa suditanza nei confronti della religione che invece andrebbe presa molto più alla leggera dovrebbe essere trattata come la favola di pinocchio la favola di pinocchio la si può anche raccontare ma nessuno oserebbe dire non rispetti chi crede a pinocchio e babbo natale stesso modo dio il papa sono allo stesso livello delle favole di pinocchio poi so che l'argomento è vasto si rischia di banalizzare sicuramente molto del nostro occidente è in maniera indissolubile mente legata anche alla religione cristiana cattolica però secondo me sono più contro che pro e la tua esperienza personale con non so preti catechisti se mai l'hai fatto a me mi hanno obbligato ero piccolo non potevo scappare io allora ho fatto catechismo da bambino a mio piccolo piccolo però non è che ero obbligato se per caso non avessi voluto potevo anche non andare non c'è stata mai la pressione a me in quel senso da bambini lo fanno tutti non ti chiedi neanche cosa sia poi quando magari inizi a vedo i 13 anni ho iniziato a capire che era un pochettino delle scemenze però per il resto non ho particolari esperienze così che mi portino a luce episodi particolari tu invece catechismo preti a scuola eccetera purtroppo ho dovuto fare una scuola perché ho avuto dei problemi verso 14 15 anni non sapevo che che scuola scegliere ero disperata e sono finita in una scuola sbagliata come capita tantissime persone e purtroppo ho avuto questa esperienza molto negativa con era un gruppo di preti possiamo dire che si comportavano in modo secondo me ingiusto nei nostri confronti non soltanto umiliandoci a parole ma veramente quando la situazione magari in classe era poco chiara molto caotica anche perché eravamo tantissimi in classe non disegnavano di dare colpi anche fisici diciamo agli alunni cosa che io non riesco a comprendere va al di là della mia comprensione forse tu puoi comprendere io no quindi preti abbastanza un prete abbastanza manesco ecco un tipo di prete abbastanza manesco che secondo me non dovrebbe mai avere spazio nell'educazione dei dei ragazzi perché comunque eravamo incredibili io eravamo parlo di me perché poi mi arrivano 5.000 cose sulla testa ero molto fragile non so tu com'eri a 14 15 16 anni ma la sicurezza in me stessa io non ce l'ho mai visto l'episodio all'asilo alla scuola materna che però era una un asilo privato di suore mi ricordo una suora che mi prese sculacciate nel sedere mentre dormiva praticamente abbastanza doloroso mi fate venire alla mente insomma abbiamo trovato fuori l'amorevolezza la sensibilità la bontà dei preti delle suore insomma infatti c'è fanno delle cose che da dei professori anche atei non ho mai visto fare ti dico la verità perché io sono stata in repubblica cieca dove tantissimi sono atei c'è proprio una delle percentuali più alte al mondo di atei io purtroppo episodi negativi anche da parte di professori atei soprattutto uno era ateo mi ricordo ma era un gran coglione quindi tra l'altro è anche morto ma non è che io divento diciamo cambio idea anche se qualcuno muore era uno stronzo e ora è un ex stronzo perché non c'è più detto col massimo rispetto ma non facciamo nomi sì era un classico professore che praticamente non sono non solo i compagni che bullizzavano ma anche lui che bullizzava magari alcuni studenti il classico uomo che magari da giovane è stato bullizzato allora quando poi magari diventa professore no una posizione a un ruolo per sfogarsi di quello che ha subito bullizza i diciamo i gli studenti è la cosa peggiore che può accadere ad una persona ovvero subire magari del bullismo e reagire incattivendosi incattivendo vabbè diventano più cattivi diventano peggio dei carnefici che io sono una figurativa quindi immagino no la scena di lui che viene bullizzato con lancio di oggetti oppure se ha un difetto fisico prenderlo per il culo che poi non ha senso perché difetti ne abbiamo tutti io i denti gialli saluto i miei haters ho i denti gialli per colpa di una malattia cronica tra l'altro che non vi auguro ma è dentro di sé nella sua mente no torna a casa tutti i giorni incavolato nero pianta i pugni sul tavolo e dice devo resistere perché un giorno diventerò peggio di loro e farò pagare a tutti me lo immagino questa questa persona in questa stanza piena di sì alle volte è un processo che purtroppo accade uno non è neanche cosciente semplicemente si incattivisce però secondo me c'è anche lo zampino di una società che tendenzialmente sprona troppo alla vendetta sprona troppo alla rivalsa ma in senso distruttivo non in senso propositivo quando in realtà quando uno secondo me è stato vittima di qualcosa di negativo ma guarda anche la vita di tutti i giorni uno ti fa un torto capisco la rabbia il nervoso però c'è quasi una sorta di senso della vergogna faccio la parte di quello che le ha subite ma tra uno che le dà e uno che le subisce quello che si deve vergognare è quello che le dà gratuitamente quello che le subisce non ha nulla a cui vergognarsi è chiaro che una società come la nostra dove si tende ad esaltare il carnefice e si umilia la vittima capisco che non è facile qualcuno dice non è vero in questa nostra società o molte volte si sta dalla parte anche delle vittime ci sono campagne di sensibilizzazione sono solo mode in realtà non frega niente a nessuno di di chi subisce qualcosa lo si vede poi andando a vedere oltre la superficie comunque non mi ricordo se l'ho detto ah sì l'abbia detto all'inizio o forse no comunque tu hai un canale youtube e sei paradise now su youtube vero? paradise now paradise now sì su youtube ecco saluto tutti i miei però intanto sono sono pochi sono pochi quindi ribadiamo paradise now su youtube e altre domande hai tu? allora scusami ma sono molto miope tu sai che io sono all'estero quindi ti chiedo qualcosa di generale sulla situazione in italia come la vedi come vedi tu la situazione in italia puoi parlare di politica puoi parlare di quello che vuoi società visto che io arrivo e magari vedo e non vedo ecco non ho una visione io su questa tematica penso che molte persone parlino e straparlino solamente per sentito dire proprie frustrazioni dare risposte facili a problemi complessi perché in realtà secondo me oggigiorno diciamo sempre di più perlomeno ogni mondo è paese e quindi non c'è luogo in cui hai l'inferno è un luogo in cui hai il paradiso ovviamente è chiaro se andiamo a prendere sono tanti paesi in cui ci sono le bombe la guerra le mine anti uomo è chiaro che in un certo senso si può parlare di inferno magari maggiore rispetto ad altri paesi però al dia di cose ovvie io credo che in italia ci siano tante uscenità io quando critico il mondo di oggi ovviamente su cosa mi baso sicuramente mi baso su quello che vedo in italia vivendo qui e se andato all'estero unicamente magari per delle vacanze però ciò che critico che avviene qui senza ombra di dubbio avviene anche oltre confine poi può cambiare la modalità cambia la forma ma la sostanza è la stessa a mio avviso nel mondo capitalista consumista chiamiamolo come vogliamo occidentale che oramai è tutto il mondo perché oramai la globalizzazione riguarda il globo intero quasi al di là che c'è gente che vive e sono forse migliaia di persone animati da un ben diverso tenore di vita dal punto di vista di comfort del così delle comodità però questa mentalità occidentale sta un po' impervadendo ovunque e credo quindi che se mi trovassi in regioni d'america se mi trovassi in russia se mi trovassi in spagna in francia in germania repubblica cieca bene o male i miei video sarebbero gli stessi poi magari ci potrebbe essere un qualcosa su cui mi soffermo un po di più un po di meno perché ogni paese può avere le sue peculiarità ma non c'è un paese dove non c'è la superficialità dove non c'è il materialismo dove c'è apertura mentale non c'è cambia secondo me poi questa è la mia idea e quindi questo poi chiaro dal punto di vista politico ogni paese ha il suo governo però sai siamo in epoca in cui in corea del nord c'è Kim Jong-un in Stati Uniti America c'è Trump qua abbiamo i buffoni il trio dei buffoni Salvini Conte Di Maio e altri paesi possiamo avere persone bene o male più o meno serie con reputazione diversa ma ti dirò adesso rischio il massacro tu sai che sono in germania tutto sommato das merkel perché loro la chiamano o mutti merkel la mamma la mamma merkel oppure das merkel vuol dire das e adesso insulti sulla mia pronuncia in tedesco saluto tutti das è l'articolo per il neutro quindi loro la considerano così come posso dire neutrale così è sempre una persona che cerca la via di mezzo il compromesso tutto sommato per quanto riguarda qua poteva andarci molto peggio sì sì sicuramente sì però come posso dire a oggi a mio avviso magari domani fra cinque anni fa dieci anni siccome potrebbe arrivare il gabibbo anche lì come presidente del consiglio si chiama cancelliera in germania poi ovviamente questo non per esaltare la merkel a tutti i costi o ciò che c'era prima che sono in italia berlusconi prodi rutelli no però quando c'è un qualcosa che non va c'è un qualcosa che non risolve i problemi della gente c'è un qualcosa che appare troppo al servizio dell'economia della finanza e poi la risposta è ciarlatani fanatici estremisti di un certo tipo è chiaro che non si va da nessuna parte insomma se sei un problema e sono il primo a denunciare il sistema a denunciare un'economia che primeggia sull'uomo poi però non è che allora arriva qualunque cosa di diverso rispetto a ciò che difende quel sistema ed è meglio può essere anche peggio se è un ciarlatano se è un incompetente se è uno che vuole dare risposte semplici a problemi complessi e quindi per me il cambiamento esiste un po' in tutto il mondo anche a livello politico solo che è un cambiamento in peggio o rischia di esserlo molto fortemente o almeno ho questa visione e parlo da persona ipercritica nei confronti anche del passato e non mi si potrà accusare di essere prezzolato o a servizio del sistema o del stato delle cose attuali solo che non basta essere giovani o nuovi per essere migliori ecco un'altra domanda sull'Italia se hai visto un cambiamento di quella che è la situazione femminile lo so che non sei una donna ma io sono 12 anni che sono via non so se hai ricordi del 2006 perché sei molto più giovane di me però insomma sei cambiato qualcosa dal punto di vista della donna? dal punto di vista della donna beh il 2006 per me è ieri mi sembra veramente ieri 2006 anche il 2001 a fine 2006 avevo 2006 e a 12 anni fa avevo 20 anni quindi no era abbastanza grandicello cambiamenti per quanto riguarda la donna ma io a livello sostanziale non li vedo rispetto a dieci anni fa ovviamente rispetto a quando sono vivo non ho visto particolari cambiamenti forse magari il classico discorso che oramai forse è dato anche uno stereotipo delle donne che in un certo senso si fanno un pochettino più avanti con gli uomini ecco giusto quello io nella mia esperienza ho visto però per il resto io mi sono accolto di trasformazioni radicali ecco perché si parla sempre almeno quello che è rimasto in tutti questi anni al discorso del tiraggio delle donne al tiraggio cosa che io non ho problemi a capirlo forse perché sono parte lesa quindi non lo so se puoi spiegarmi ma sai il discorso lì è molto semplice molto spesso molti accusano una donna di tirarsela semplicemente perché non si concede a lui tu donna non vieni con me non mi caghi sostanzialmente e quindi vuol dire che te la tiri cioè se quello vuol dire tirarsela significa avere la libertà di decidere con chi avere a che fare no e poi molti confondono alcune donne diciamo magari cioè alcuni dicono in Italia le donne se la tirano in altri paesi che so in Russia che so in Polonia che so in Albania mettiamo che so in Repubblica Ceca le donne se la tirano di meno no a volte ci sono questi slogan e perché dicono così perché magari se tu nonostante magari non sei un bronzo di riace non sei un top model le donne ti rivolgono parola magari un pochettino di più se le inviti a cena ci stanno il problema è che quello non è necessariamente un qualcosa che dimostra profondità o mondo migliore se magari vai a scoprire che escono con te che ti frequentano magari per il cash cioè è quello il punto non che in Italia non esistano donne che escono con uomini per il cash ci sono anche in Italia ma alle volte mi sembra che coloro uomini spesso che esaltano certe donne di altri paesi non si accorgono che in quei paesi c'è magari il materialismo che c'è anche in Italia ma ancor più elevato quindi magari in Italia il materialismo c'è ma ancora magari guardano l'aspetto estetico in misura un pochettino di un certo livello in altri paesi magari se ne sbattono completamente dell'aspetto estetico perché guardano molto di più il portafoglio poi attenzione tutte le russe sono diverse, tutte le albanese sono diverse, tutte le cieche sono diverse, tutte le italiane sono diverse però per generalizzare dato che chi fa quei discorsi generalizzano, gli italiani se la tirano secondo me è così c'è gente in Italia brutta come la fama, me lo dico senza voler mancare di rispetto, uno non è che ha colpa di essere brutto metti che magari molti di questi sono anche dei gran coglioni perché molte volte sono degli uomini che dicono io sono brutto, nessuno mi caga ma poi li vai a conoscere e capisci che sono più belli che profondi cioè quella loro bruttezza è il minor difetto che hanno poi li senti parlare e non è che hanno chissà cosa da dire, non è che hanno chissà cosa di interessante allora ti chiedi ma sei sempre sicuro che non ti cagano perché sei brutto comunque in Italia magari uno particolarmente brutto magari è poco considerato se non hai soldi anche magari da donne che non sono attraenti poi magari vanno oltre i confine e anche se non sono ricchi ma magari hanno un minimo di lavoro magari là ci sono alcune donne un po' di più che se per esempio ipotizzi anche solamente di mantenerle mettiamo e magari ci stanno con te solo per quello però voglio dire non è che quello vuol dire tirassera di meno vuol dire che tu uomo esalti unicamente le donne che con te ci stanno e dei nighi tutte quelle che non ci stanno come se quelle che ci stanno necessariamente fossero migliori poi ci sono discorsi di gusti personali, libertà personale immagino che anche a te non tutte le donne piacciono tantissimo certo assolutamente, non tutte poi ovvio sta nel rispetto di come dici no ad una persona non è che devi insultare e dire no fai schifo no quello ovviamente ma non credo assolutamente che in Italia le donne si attirino più di altre realtà attenzione che ho sentito anche uomini che la pensano come te ad essere accusati di leccaculismo perdonami la parola in francese no perché io non posso essere accusato di quello anche se qualcuno lo fa sicuramente perché sono il primo a criticare le donne medie così come anche gli uomini medi devo dire però che siano italiani, che siano tedeschi, che siano russe, che siano francesi io che dico l'essere umano, l'essere umano a mio avviso è superficiale, grottesco, aberrante sgradevole ovunque sostanzialmente ma Enrico come fai a dirlo se non sei stato negli Stati Uniti d'America magari lì scopri il paradiso dal punto di vista dell'umanità non sei mai stato in Svezia ma i mali che spesso denuncio dell'uomo che io vedo, della donna che io vedo qua in Italia non sono mali tipici dell'italianità sono mali tipici di un uomo che vive pensando che i soldi siano l'unica cosa che porta una felicità quando in realtà non portano per niente la felicità critico un uomo animato dal pensiero che più ha, più è felice insomma un uomo che vive nella dimensione dell'avere e del fare compulsivo e totalmente privo di essere dubito che in Germania ci sia più essere e meno avere in Svezia ci sia più essere e meno avere e negli Stati Uniti d'America ci sia più essere e meno avere e anche in Russia trovi persone intelligenti, interessanti ovunque ma a livello di nicchie secondo me se vado in Germania trovo alcune persone interessanti ma una minoranza se vado in Congo posso trovare un po' di persone interessanti ma una minoranza poi è chiaro ogni luogo avrà il suo contesto culturale sicuramente anch'io che detesto l'italiano medio magari ho qualcosa in comune rispetto all'italiano medio magari le cose meno oscene rispetto ad uno che vive nel polo nord ovvio o il polo sud dov'è che si vive al sud o al nord? non mi ricordo è una bella domanda forse ci sono delle basi nel polo sud io credo perché nel polo nord non c'è la terra quindi se si scioglie fanno in base allora sull'America mi è venuta una cosa molto breve in mente proprio un pensiero scimmiano della meditazione mi è passato per la mente che praticamente ci sono video su video di ragazzi americani disperati perché hanno voluto studiare all'università e all'università negli Stati Uniti magari anche molto buona in cose di nicchia ma anche in cose molto utili per diventare dottore per esempio per diventare dentista però costa tantissimo si sono riempiti di debiti quando hanno iniziato l'università loro iniziano a 16 anni e poi vanno avanti a pagarle tutta la vita solo che molte volte magari c'è stata la crisi economica hanno perso il lavoro non possono più dare i soldi indietro e quindi ci sono questi ragazzi disperati pronti a fare video su YouTube a fare qualunque tipo di lavoro hanno tipo tre lavori al giorno e ovviamente problemi di depressione a manetta perdonami l'espressione e problemi di ogni tipo perché poi il corpo umano dopo un po' si ammala cioè magari la tua mente ce la fa ma il tuo corpo inizia a insultarti e come fa a insultarti? Facendoti ammalare quindi secondo me lì sono messi forse ancora peggio di noi cioè nel senso almeno l'istruzione in Italia si paga un po' ma non è niente a paragone rispetto agli Stati Uniti si parla di rette di 20.000 euro l'anno direi anche la sanità comunque appunto cioè una cosa noi due abbiamo delle malattie sia io che te la tua non l'ho ben capita è i reni giusto? ecco noi due avremmo i debiti proprio per tutta la vita più lasciamo perdere l'università sì per dire io nonostante nonostante io non lavori diciamo per quanto riguarda professioni tradizionali e non si indipende economicamente io in quanto portatore di reni policistici quindi una patologia cronica ai reni per esempio ieri ho fatto un'ecografia al cuore perché comunque i reni policistici si portano anche un po' di pressione alta quindi ogni tanto devo controllare il cuore e anche diciamo cervello le arterie le vene del cervello ieri ho fatto l'ecocardio gratis perché ho l'esenzione altrimenti l'avevo dovuta pagare non tantissimo perché comunque il ticket in Italia è mi pare 17-18 euro per una visia 34 per gli esami diciamo strumentali anche se c'era scritto nel mio foglio 60 esente 0 poi non so se tutti avrebbero pagato 60 o no comunque si paga io non l'ho pagata nonostante addirittura non lavori non risulti come occupato in Italia in tanti paesi penso sicuramente gli Stati Uniti d'America ma anche paesi in Europa alcuni paesi in Europa se tu non lavori non è neanche il medico di base gratis devi prendere l'appuntamento e lo paghi devi avere assicurazione anche per il medico di base quindi per dire noi dobbiamo per scontare delle cose solamente perché le abbiamo tutti i giorni pensiamo ma come là non c'è quindi io parlo di aspetti esistenziali umani interiori ma se poi andiamo a vedere anche aspetti pratici di vita anche su quel piano lì non su tutto l'Italia è una merda e all'estero è una pacchia perché anche su quello ci sarebbe tanto da dire anzi non dico che in Italia funzioni tutto bene per carità però io preferisco qualche tombino a livello in meno e una sanità un pochettino più alla puntata di tutti sì allora tieni conto che anche il mio ragazzo siamo un club di fortunatissimi ha il diabete quindi noi due negli Stati Uniti d'America lo dico sempre avremmo i debiti più grandi di noi veramente perché abbiamo fatto tutte e due l'università figurati lui ha fatto anche fisica e e poi ci sarebbe il problema di pagare tutto cioè dovremmo avere otto lavori ciascuno ci vedremmo scrivendoci le lettere d'amore tipo quelle di 14 anni credo perché non ci sarebbe più tempo per fare altro perché poi le ore sono 24 al giorno quindi molte volte gli Stati Uniti mi fanno paura ti dico la verità dunque altre domande volevo fatela io per non fare troppe diciamo domande a me diciamo e lasciare meno spazio a te ti volevo chiedere tu vabbè il tuo canale su youtube poi so che da un anno sfosa anche di più sei anche su Steemit questa piattaforma che c'è da periodo relativamente recente non c'è da sempre non so esattamente da quando quando c'è da quando è diventata due anni quindi anche da tanto tu sei da un po' iscritta in quella piattaforma anche io mi sono iscritto anche se ancora non sono attivissima niente volevo un attimo che in due minuti spiegassi magari agli utenti che guarderanno questo video che cos'è Steemit è una piattaforma in cui le persone possono scrivere in diverse lingue proprio internazionali diciamo molti scrivono anche in inglese però tendenzialmente c'è una comunità italiana dove le persone si aiutano anche tendenzialmente uno con l'altro comunque sia Steemit dà la possibilità di scrivere dei contenuti quindi è per persone a cui piace scrivere e si può scrivere diciamo su tutto quello che ti interessa si può aggiungere anche video come fai tu per esempio vedo che scrivi dei testi e poi aggiungi i video delle tue creazioni io per esempio sono un po' appassionata di grafica e quindi metto molte volte le mie creazioni non uso molto magari fotografie ma preferisco creare i miei oggetti e chiedo consigli per esempio una persona può dirmi questo oggetto qui lo preferisco magari rosso ti faccio l'esempio di un anello con una gemma magari io faccio questa gemma blu azzurra e le persone mi dicono vorrei magari vederla rossa quindi io faccio le modifiche chiedo quello che pensano e sono sempre aperta anche a consigli perché un consiglio ti può arrivare anche da una persona che non sa di grafica ma magari ci sono persone che sanno disegnare molto bene a differenza mia che ho dei problemi a disegnare le sedie quindi posti diciamo posti delle cose molto spesso inerenti alla grafica dici sì oppure mi piace anche la storia se magari ho una lezione particolare a scuola e è molto interessante magari scrivo su quello quindi una sorta di piattaforma in cui ogni persona può postare quello che vuole con la possibilità di aggiunta di immagini di link video di testo scritto e quindi massima libertà di postare quello che si vuole in una sorta di social perché alla fine si può anche intendere come social dove tu puoi seguire le persone che ti interessano quindi c'è un po' di limitazione forse sulla religione ma per non insultare le persone e molte volte sulla politica magari per paura di proselitismo di gente assolutamente estremista d'ampo è molto importante che siano cose totalmente originali non bisogna scopiazzare in giro sì perché veramente poi si perde di credibilità a tutti e aspetto che differenzia questa piattaforma dalle altre è che si guadagna qualcosa sì è possibile votarsi votare un contenuto diciamo che piace in modo tale che pian pianino una persona cresca come una persona cresce cresce anche la comunità diciamo sì non lo so io sono su steemit dal 2016 ma scusa 2017 perdonami e steemit è nato nel 2016 quindi sono tipo due anni e mezzo che esiste steemit e io sono da un anno e quasi mezzo su steemit e a me piace molto scrivere lo faccio volentieri tu lo fai ogni tanto credo a me piace molto non so tu qual è la tua impressione personale possiamo parlare anche a me piace poi chiaramente un qualcosa anche se è nato a due anni appunto due anni non è molto agli inizi bisogna vedere un po' come evolve come va però è molto interessante perché è comunque in questa epoca anche una sorta di possibilità per non dico non dico in maniera facile poterne fare un lavoro perché comunque si parte davvero piccolissimi non è che è facilissimo crescere a livello esorbitale però è comunque un qualcosa che ti permette di guadagnare qualcosina e può far sempre comodo praticamente ci sono i classici mi piace lì si chiamano voti più che mi piace a differenza di facebook instagram o altri social dove il mi piace è fine a se stesso sostanzialmente al di là della vana gloria della popolarità ogni mi piace ogni voto corrisponde a non so un un centesimo oppure mezzo centesimo oppure due centesimi oppure cinque ma non è ovviamente una cosa fissa a seconda del tuo potere di voto il voto di una persona ti può dare un centesimo un'altra persona ti può dare dieci centesimi come varia perché uno ha un potere di voto di un tipo o un altro ha un potere di voto minore o maggiore diciamo è una cosa complessa di cui non parleremo qui però se vi interessa la plateforma Steemit avremo l'occasione magari di fare video specifici su su questo però provate innanzitutto a cercare Steemit Steemit e trovate informazioni cioè ci sono varie ci sono varie varie istruzioni sul web sì sicuramente ci sono anche delle persone che possono aiutarvi molto più di quanto potrei fare io perché sicuramente ci sono le nuove generazioni che sono bravissime fanno dei dei filmati magari informativi che io non potrei mai fare perché non ho queste capacità e poi ci sono delle persone che vi possono tranquillamente informare ed è un qualcosa o di meno di dire legato alla criptovaluta cioè in realtà non è un centesimo di euro ma è in Steem Dollars che poi va convertito ovviamente in euro e quindi va molto per quanto riguarda il guadagno va molto anche a seconda dell'andamento di questa criptovaluta di questa moneta virtuale dico l'esempio quando io ho iniziato valeva molto è un periodo molto florido uno Steem Dollar in certi periodi era 7 8 9 dollari oggi più o meno vale 1 oggi più o meno è 1 1 anzi un po' meno 0 9 forse comunque siamo lì a cavallo oscillazioni tra 0 9 e 1 quindi uno Steem Dollar vale 1 euro quindi se guadagnate uno Steem Dollar è 1 euro ma qualche mese fa il tuo post aveva che so uno Steem Dollar ovvero 9 euro e quindi ciò potrebbe ancora accadere un aumento potrebbe verificarsi in quel caso si guadagna di più ovviamente è imprevedibile perché è una criptovaluta se tutti potessero se si potesse prevedere l'andamento in maniera esatta in maniera matematica ovviamente è un po' come alla fine quando uno fa un piccolo investimento non sa come andrà qui però non bisogna fare nessun investimento perché è totalmente gratuito si parte e non paga poi uno può anche versare i propri soldi ma non è assolutamente necessario io per esempio ho versato dei soldi all'inizio giusto per rendere la parte diciamo iniziale un pochettino più morbida ma adesso potrei per esempio togliere questi soldi se mi sentissi in qualche modo insicura pian pianino sto mettendo da parte i soldi che avevo investito che comunque non erano tanti quindi sto mettendo sto rimettendo da parte i soldi investiti pian pianino tutti i giorni e quelli che invece ho guadagnato resteranno probabilmente se mi sentirò insicura comunque ho questi soldi da parte qua che posso prendere e almeno l'investimento è ritornato indietro diciamo sono un po' una formichina ho l'abitudine di fare magari poco quasi tutti i giorni cioè magari in una settimana non posto proprio tutti tutti i giorni se sono occupata ma magari la settimana dopo posso postare un po' di più però è diventato diciamo quasi per me un appuntamento fisso perché mi piace molto scrivere comunque lo faccio un po' in modo forse masochistico indipendentemente dai soldi ma perché proprio a me piace farlo si alla fine uno lo può intende semplicemente come assomiglia molto ai vecchi blog nel senso che c'è il testo per formatare maiuscolo minuscolo colonne quindi uno può anche viverlo in una sorta di propria pagina personale in cui si tira fuori ciò che riguarda le proprie passioni i propri hobby quello stesso cosa si vuole scrivere e contemporaneamente uno sa che può guadagnarci qualcosina a seconda di quanto vale in quel momento lo steam dollars e direi hai altre domande tu per me allora solo la domanda sul cyberbullismo il cyberbullismo è vero il cyberbullismo come la vedi tu perché io sono una persona che ci gioco molto sopra perché comunque ho le spalle larghe l'unica cosa che come ho detto nell'ultimo nell'ultimo video di non mettere allora la mia famiglia in mezzo perché non c'entra niente quello che faccio lo faccio a nome personale il cyberbullismo andrebbe severamente combattuto qualcuno dovrebbe intervenire perché non può essere una specie di così di mondo privo di leggi di una giungla totale il web quindi andrebbe assolutamente regolamentato al diavolo che dice vogliono limitare può dare se qualcuno voglia limitare la libertà ma intervenire per far sì che non sia una giungla non vuol dire limitare vuol dire civilizzare in senso in senso nobilitante purtroppo oggi è una giungla però ecco bisogna fare la differenza fra purtroppo vedendo i fatti realtà ed utopia sono molto scettico perché a oggi a nessuno quasi frega niente del bullismo fisico a scuola in un posto di lavoro per strada davvero nessuno interviene a scuola davvero ne parlano tantissimo di bullismo tra i giovani ma nessuno fa niente veramente ridicolarmente impegnato figuriamoci chi si metterà a fare cose sul web quindi a livello teorico bisognerebbe intervenire per quanto riguarda il bullismo in maniera radicalmente diversa rispetto a quello che si fa e bisognerebbe intervenire anche sul web però purtroppo mi sa che rimarrà lettera morta per un po' di decenni mi auguro che si abbia a cuore si abbia a cuore anche in questo caso l'uomo perché che sia nella realtà di tutti i giorni o che sia sul web se una persona è presa di mira andrebbe un attimino tutelata non tanto per voler puntare il dito sul carnefice e crocifiggerlo ma se un altro pensava a guardare le persone che non meritano di essere prese di mira poi da fare la differenza fra uno che prende in giro una volta o offende anche una volta va bene il coglione si può essere anche sempre essere ma da un qualcuno che perseguita e sono tanti i cosiddetti odiatori che perseguitano insultano diffamano e si permettono di farlo perché tanto le conseguenze sono minime certo tecnicamente esiste la legge la possibilità di con la polizia postale e poi la polizia reale fare una denuncia ma quando si arriva a sentenza dopo otto anni dopo dieci anni non devi pagare pure delle spese quindi è chiaro che almeno in Italia è disincentivante ma penso anche in altre realtà non credo che dove sei tu fai la denuncia il giorno dopo hanno fermato il tizio insomma figurati con tutti i problemi di terrorismo che ha la polizia cioè magari mi danno ascolto ma potrei trovare anche lì il poliziotto che mi dice ma vedi di gestirla in un'altra maniera perché hanno troppo da fare li capisco quello che volevo dire è che allora adesso io tu sai vivo all'estero e ho la mamma malata e cosa succede hanno nel mio ultimo video me la sono presa su una persona con una persona che più volte ha detto che sono sposata cosa che non è vero io non sono sposata dico mio uomo perché siamo insieme da tanto tempo un modo di dire che mi arriva anche dalla lingua tedesca quindi lì è colpa mia però non sono sposata l'ho detto un milione di volte comunque questa persona se vuoi faccio un gesto per rappresentarlo perché si fa la foto di un porco è andato a dire che il mio è andato a dire in giro che il mio uomo è pieno di corna però continuo a dire che io sono bruttissima e tutto quanto quindi non si sa con chi avrei dovuto fare le corna siccome io sono di aspetto aberrante e orribile però ho dovuto telefonare a mia mamma e avvertirla che non mi sto separando perché io convivo e comunque sia una separazione anche se non siamo sposati comporterebbe un certo stress per quanto riguarda una persona che comunque ha avuto un itus l'anno scorso e due attacchi di epilessia quest'anno quindi cioè si può attaccare una persona ma perché devono mettere in mezzo il mio uomo che non cioè ha tutt'altro tipo di carattere rispetto a me è una persona timida non è neanche su facebook e e poi mettere in mezzo mia madre quindi io ho dovuto parlare con lui lui era sotto la doccia ho aspettato che finisse la doccia così no con mille pensieri in testa chissà se ha letto o non ha letto boh e poi ho dovuto telefonare a mia mamma la mattina dopo perché ovviamente me ne sono accorta di sera se le telefono di notte le prendo un altro colpo quindi cioè quando riescono a capire che tu dell'insulto brutta cessa Dio solo sa quante me ne hanno dette non te ne freghi niente devono causarti casini così eh sì quello è spiacevole perché se uno si fa un attimo si fa forte allarga le spalle anche se però non tutti riescono però anche se uno riuscisse a farsi forte quindi se ne frega del vario cesso brutto sfigato accattone di quale di là poi però se addirittura alcuni arrivano no a delle cose spiacevoli come mettere in mezzo parenti magari inventandosi cose diventa un qualcosa di che può avere delle conseguenze maggiori e lì insomma è lì che già è sgradevole a prescindere poi quando va a toccare anche quegli aspetti lì metti in mezzo in maniera subito altre persone con falsità è ancora più sgradevole purtroppo il prendere atto è che l'animo umano è questo mediamente al fine sono esseri umani che fanno ste robe però ecco bisognerebbe un attimino secondo me dovrebbero prendersi un calmante e perdonami se se vuoi puoi metterci la censura su quello che sto scrivendo bip 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 dovrebbero scopare di più scusami mi permetto di dirlo perché sono proprio frustrati cioè tipo ma sai quando uno secondo me lì è un problema di frustrazione legata anche all'imbecillità e quando un imbecille scoppa rimane imbecille uguale secondo me hai capito? allora io non lo so mi rifaccio a quello che mi hanno detto nel senso mia mamma è una persona emotiva che ha un modo di gestire le emozioni diverso dal mio è anche molto ansiosa per queste cose quindi sapere che sua figlia all'estero forse il giorno dopo dorme per strada o viene sbattuta fuori di casa non la rassarena molto non rasserenerebbe me che sono più calma figuriamoci lei e poi c'è c'è da dire che va bene le cose me le merito io ma cosa c'entra il mio uomo? anche se ci facessimo corna tutti i giorni e vivessimo come gli itti sono cazzi vostri appunto cazzi nostri cioè io mi metto su youtube parlo di qualcosa ma questo non autorizza a tirar fuori cioè tutto il mio vissuto vero reale immaginato e ipotizzato esatto perché ci sono quelli che mi dicono ma tu ti metti online ti metti in gioco devi accettare il prezzo no questa è una cosa veramente inaccettabile questa cosa perché un conto uno si mette in gioco si espone pubblicamente e arrivano e arrivano delle persone che magari che so ti criticano ma anche in maniera costruttiva va bene ovvio se uno si esponesse in maniera pubblica e poi non accettano neanche le critiche uno si mette allora cosa racconti a fare queste cose dirle nella tua cameretta con i tuoi parenti però esporsi pubblicamente avere un canale youtube avere una pagina facebook non include quindi devi mettere nel conto che arrivi di la gente e ti difami perché non è possibile allora a questo punto dovremmo anche dire riusci fuori di casa un uomo mi ha stuprato e beh ti sei esposto perché sei scelto di casa e rimanevi a casa dentro i tuoi quattro muro e magari non mettevi la minigonna non ti succedeva siamo a quei livelli lì insomma sì quello che mi dà più fastidio mi fa arrabbiare è che cercano ancora di dare la colpa a te e devi startene zitta soprattutto devi startene zitta a posto e non puoi neanche neanche alzare la voce e incacchiarti ma neanche fare come faccio io che ti faccio la battuta per smontarti per esempio due nel mio canale si sono insultati come degli animali ma gli animali forse non arrivano tanto e io ho semplicemente letto tutto quello che hanno scritto loro per fargli capire guardate siete arrivati qui non è abbastanza siete augurati di saltare dentro l'acido si sono definiti coglione con due ruote mi sembra ma di tutto c'era in quella litigata per fargli rendere conto che stanno litigando sul niente ma poi sembra proprio che litigano e si incazzino è quello che mi faceva ridere immagino immagino senti per chiudere per non fare questa diciamo che è troppo lunga ti volevo chiedere senza diciamo analizzare troppo in profondità proprio risposta secca tu sei in Germania prima in Repubblica Ceca e vivi lì convivi il tuo l'uomo con cui convivi è tedesco giusto? si quindi oramai sarai lì sia per motivi diciamo sentimentali e sia anche per motivi magari non lo so potenzialmente lavorativi lì si può trovare lavori più in teoria almeno allora questo lander è un po' difficile per me però tendenzialmente al sud dico di sì al sud della Germania sì diciamo che l'economia tedesca funziona un po' al contrario rispetto a quella italiana il sud è più ricco un po' più ricco rispetto al nord ma ti volevo chiedere se tu per esempio qualunque magari un lavoro che anche ti aggrada domani ti offrissero lavoro in Italia quindi con la possibilità di un lavoro in Italia quindi uno stipendio che ti permette di sopravvivere viveresti in Italia cioè tra la Germania e in Italia con la possibilità di poter lavorare in Italia e magari lavorare anche in Germania quindi non per un problema sceglieresti di vivere in Italia o in Germania o analizzando il tutto è una domanda che ti faccio sensatamente sapere cosa risponderai pure curiosità sul momento allora io sono molto aperta ho la fortuna che il mio ragazzo parla benissimo l'italiano quindi noi parliamo spesso di ritornare e ci piacerebbe anche cioè un lavoro per esempio nel sud Italia sarebbe molto buono per me che ho problemi di tiroide e lui che ha problemi di diabete perché c'è la dieta mediterranea un po' meno grassa eccetera quindi siamo molto aperti verremo in Italia ti dico di sì un lavoro in Germania lo accetterei comunque io sono molto aperta non direi no a niente credo vabbè a parte lavori di mafiosi io faccio male alla gente mamma mia no non posso vedere il sangue che svengo quindi ti direi sì sì se avessi una proposta in Italia e una in Germania valuterei cosa è meglio fare per per me per lui perché comunque lui devo dire la verità è una persona che controlla i programmi dei computer ma nel complesso per tutto quello che si può considerare riferisci l'Italia o la Germania lo che conosci un pochettino tutte e due o pari livello o pari livello sommando i pro i contro o pari livello direi pari livello per quello che ho visto io perché secondo me la situazione femminile è meglio qui lo dico però gli italiani sono ancora visti un po' così trovi la persona a cui piacciono gli italiani e trovi invece quello che è un po' vecchio stampo perché gli italiani i primi italiani che sono arrivati qua non hanno dato il meglio di sé adesso non so come sono le generazioni dopo mi sembra che si siano molto integrate ci siano molti meno problemi ma sono arrivate anche generazioni nuove i cosiddetti ragazzi che facevano la fuga di cervelli quindi quelli forse avranno meno problemi io ne ho avuto tantissimi in Germania ma vabbè qui a Germania è un paese diciamo umano un paese diciamo normale nel senso che avrà i suoi pro i suoi contro e non è che non deve essere demonizzato non è che uno deve dire per forza no no viva l'Italia in Germania mai ma neanche penso debba essere esaltato a paradiso ecco non è un paradiso tu si chiami paradis now ma la Germania non è necessariamente un paradiso io ti ringrazio per questo intervento perché ho cercato di spiegare in tutti i modi che non odio la Germania ma il pensiero non è passato perché ho avuto un periodo di crisi in Germania che avrei potuto avere anche in Repubblica c'è che in Italia in Spagna ovunque quindi ho criticato alcune cose il che non vuol dire che io odi tedeschi che io odi tutto della Germania ho solo detto che ho avuto tantissimi problemi con l'agenzia del lavoro al punto che abbiamo litigato perché insomma hanno detto tu sai che ho fatto la tesi in Repubblica Ceta di dottorato e questa persona non ha neanche letto il mio curriculum secondo me perché mi ha detto lei che ha studiato in Ungheria scusi ma proprio detto così come per dire lei che ha preso questa laurea così rubata in Ungheria e io lì non ci ho più visto non ci ho più visto erano due anni che mi davano fastidio in tutti i modi e lì gliene ho dette quattro gli ho detto di non prendermi in giro perché poi sono molto materna con la mia tesi l'ho scritta intanto che lavoravo lavoravo e studiavo quindi è un po' come il mio figlio intellettuale è proprio la tendenza materna di difenderla l'ha un po' sminuita diciamo non ha dato abbastanza considerazione quindi ti senta sei presa giustamente mamma mia se non c'era il mio uomo lo prendevo a cappelle veramente lì ho proprio perso la tramontana purtroppo è stato un momento molto teso però vabbè lì ho criticato l'agenzia del lavoro ma gli altri tedeschi un tedesco che passa per la strada non ne può niente quindi tu a oggi lavori al momento sono disoccupata mi occupo di steemit mi occupo per quel che posso di youtube mi faccio delle lezioni di italiano e sto mandando curriculum in giro intanto che cerco di passare gli esami di tedesco che comunque sono quasi un lavoro a tempo pieno te lo garantisco quindi nonostante tu abbia una laurea in ingegneria e un dottorato non si trova con la bacchetta magica al lavoro neanche in germania almeno da italiani poi non so se un ingegnere lì tedesco trova con più facilità o no guarda ho fatto un corso dove c'erano persone disoccupate per avere più chance con il curriculum e c'erano delle persone molto qualificate tedesche tra cui un dottore esattamente come me questo per lasciare un messaggio a chi magari ha malapena con la licenza media alle superiori senza magari avere nessuna particolare abilità lavorativa nessuna esperienza e lo dico col massimo rispetto perché io non sono un esaltatore per forza di avere un curriculum io sono il primo a avere zero curriculum però molta gente con zero curriculum pensa di andare all'estero e trovare il giorno dopo il lavoro a vita magari super pagato e trovare la pacchia non è proprio così non è proprio così però ognuno ha il suo destino perché più e meno fortunato poi io dico ho fatto questi studi perché volevo farli non è che c'era qualcuno sì mio padre era severo però non è che me l'ha imposto assolutamente se una persona non ha amore per gli studi che non li faccia perché essere costretti a fare una cosa che non piace è l'inferno secondo me certo ma anche nel punto di vista lavorativo chiaro che se uno ha la necessità altrimenti di muore di fame è comprensibile adeguarsi però se uno non muore di fame secondo me non è da sfaticati non accettare qualunque lavoro è amore per se stessi e per le proprie inclinazioni poi è chiaro che nel bisogno uno per lo spirito di sopravvivenza si adatta ma molte volte si vuole dipingere qualcuno come scansa fatica perché non accetta qualunque lavoro a qualsiasi condizione quando in realtà è nella sua libertà scegliere quello che reputa giusto per la propria vita alla fine non fa del male a nessuno un essere se divido il lavoro perché non gli piace al massimo può avere le problematiche lui stesso infatti i problemi me li prendo io perché sono senza lavoro poi hanno deciso che io mi etra hanno deciso che succhio il sangue al mio uomo in realtà per anni loro non lo sanno ti avranno detto succhio il sangue il tuo uomo succhio il sangue la Germania magari ti hanno detto però io ho dei soldi da parte perché in Repubblica cieca lavoravo studiavo e quando ho finito per più di un anno ho avuto due lavori quindi cazzi miei in più cioè scusami mia nonna poverina può lasciarmi diciamo che mia nonna ha avuto la libertà di lasciarmi in erede a qualcosa potrà mia nonna aver lasciato a me qualcosa e se mia nonna mi ha lasciato a me qualcosa potrò io usarlo voglio dire ma poi oltre a questo nel tuo caso non c'entra perché appunto tu hai fatto due lavori hai messo la foglia da parte eredità però secondo me in generale c'è da cambiare mentalità perché queste accuse anche come se fosse un qualcosa realmente di cui vergognarsi anche se fosse nel senso uno tra virgolette sanguissuga per esempio di un uomo nel senso che lui mantiene lui mantiene ma cosa gliene frega gli altri è un problema fra le due persone se per esempio all'uomo gli sta bene mantenere una donna quale sarebbe il problema cioè sarebbe come dire che qua in Italia ma penso che riguarda per me in tutto il mondo per 40 anni gli anni magari 30 gli anni 40 gli anni 50 gli anni 70 dove il 90% delle donne erano casalinghe l'uomo e l'uomo lavorava tutte quelle donne non erano donne degne erano tutte le sanguisughe invece le casalinghe le mamme di un tempo no le si sono sempre accettate nessuno le ha mai le ha mai dipinte come sanguisughe solo che in questa epoca moderna siccome la casalinga assolutamente non esiste più si inizia a vedere improvvisamente come negativa una persona se è dipendente economicamente dal proprio compagno una persona deve avere la libertà ci sono delle donne che non vorrebbero mai essere dipendenti da qualcun altro e nessuno le obbliga ma se una volesse non è il tuo caso ma se una volesse io non avrei nulla da dirle e anche al contrario magari è più raro ma una donna ricca magari anche di 80 anni che vuole mantenere un uomo di 60 anni di 40 anni di 50 anni quell'uomo è poco degno quell'uomo è vergognoso no è un fatto privato una scelta privata e se è la donna che mantiene o l'uomo che mantiene va bene perché la gente deve rompere i coglioni la gente rompe i coglioni perché l'unica spiegazione è l'invidia quando qualcuno va a rompere il quale a qualcun altro lo fa solo perché invidia altrimenti uno ok ne prende atto anche se non gli piace una cosa e lui non la farebbe passa passa se tu mi soffermi è invidia è invidia oppure delle frustrazioni patologiche tutto lì di altra natura io non riesco a capire che cioè scusate ma l'unica che potrebbe veramente dire qualcosa è mia nonna però se hai lasciato i soldi ti assicuro che mia nonna era una persona molto razionale se mi lasciava i soldi voleva veramente che io li usassi certo sì sì poi ovviamente se si aggiungono anche falsità sul conto delle persone poi è ancora peggio insomma se si inventa perché a volte la gente soprattutto questo app viene nel web si fa delle narrazioni circa le persone che non corrispondono alla realtà sono ipotesi che poi però si dimenticano essere ipotesi e diventano la verità e a volte è capitato anche a me a volte qualcuno parla di me e vedi parlano fra di loro di me magari a me capita un po' più spesso perché è un canale più grande quindi magari un po' più hater eccetera parla di me raccontando quello che io sono io leggo e dico ma di chi stampa non c'entro niente no a me all'ultima volta hanno deciso che mia mamma non guarda le cose che io faccio ma se non scusate se non li guarda mia mamma chi dovrebbe guardare io non lo so mi sono messo a ridere e l'ha messo come fatto no io dico che è così quindi mia mamma adesso deve essere tolta dal mio canale deve disescriverti dal mio canale invece mia mamma ha piacere di vedermi parlare perché certe volte magari quando per esempio sono andata in un museo sono andata in un museo di Mannheim che consiglio a tutti bellissimo sulla scienza sulle nuove invenzioni del 1900 bellissimo dove puoi fare anche degli esperimenti e io ero felice come una bambina mia mamma mi fa sono proprio stata felice di vedere quel video perché è tanto tempo che non ti vedo così tutto sorridente che fa le presentazioni io sì io ho fatto ingegneria meccanica e ho studiato tanto fisica perché io adoro farlo e quello è una cosa che non si è mai capito di me mi davano della secchiona di tutto eccetera no io adoro farlo punto non sono neanche la più brava a farlo non ho neanche la presunzione di essere un genio assolutamente no magari per arrivare a un risultato dovevo lavorare molto ma io adoro farlo altrimenti non lo farei allora facciamo un saluto anche alla mamma di Alessandra se magari vedrà questo video lungo magari glielo linkerai come si chiama la tua madre? Anna un saluto ad Anna uno dei nomi più belli che c'è secondo me un bel nome corto vale anche al contrario Anna Anna si puoi leggerlo si e niente direi di concludere qui questa bella chiacchierata spero che sia piaciuta sia a chi mi segue sia magari a quelli ah no la carichiamo sul mio canale questa quindi vabbè però magari sui tuoi social metti il link così qualcuno che che non conosce me quindi non segue il mio canale può vedere questa chiacchierata no e spero che sia piaciuta e magari altre persone abbiano voglia di fare una cosa di simile quindi io voglio lanciare questo format aspetto su whatsapp il mio numero è in descrizione su facebook direct su instagram ovunque o anche nei commenti però meglio in privato e mi dite guarda voglio fare una chiacchierata con te di quel tipo in cui ci si fanno anche delle domande alla vicenda e sarei contento di partecipare potrebbe essere la prima puntata di una lunga serie io con te già ho fatto una chiacchierata anni fa però poi il tutto si era fermato a quello ecco da oggi se qualcuno mi contatta e mi dice che vorrebbe fare una chiacchierata simile sono disponibile a questo format non so se in tanti sono arrivati fino alla fine perché è un video davvero lungo non so quando quando stiamo parlando un'oretta sarà forse abbiamo superato l'oretta guardiamo chi sono i temerari i propri elementi come posso dire che meritano un premio che sono arrivati fino alla fine cosa diciamo chi è arrivato fin qui cosa deve scrivere nei commenti viva onestà viva l'onestà viva l'onestà oppure la Germania non è un paradiso c'è una frase che mi piacerebbe però è molto rischiosa vediamo un po' quanto sono temerari la mafia è una montagna di merda anche la mafia è una montagna di merda oppure cosa potremmo far dire vediamo un po' cosa anche di più conciso di più breve viva la libertà viva la libertà viva la libertà va bene viva la libertà estesa diciamo alla vera libertà perché poi è una parola che hanno in tanti in bocca la libertà la libertà e poi magari quasi tutti coloro che dicono amo la libertà poi sono più schiavi in assoluto e ambiscono anche ad essere schiavi perché come ho sempre detto la schiavitù moderna è subdola perché è ciò che si cerca non è una condizione in cui ti si trovi diciamo per volontà altrui molto spesso l'uomo moderno si autoschiavizza anche per via di condizionamento poi magari si lamenta e magari c'è qualcuno pochi liberi e si punta in dito contro quei liberi per invidia torniamo poi a monte quindi se siete fino alla fine scrivete viva la libertà e metterò il cuoricino nel commento perché merita ovviamente chi si avrà visto tutto devo dire che è stata una checcata interessante quindi non deve essere stato un grosso sforzo arrivare fino alla fine però sappiamo che i video lunghi non sempre la gente li segue con facilità tutti quindi cuoricino assicurato e un applauso da parte nostra per chi arriverà fino alla fine bravi veramente pazienti viva la libertà se l'avete visto tutto niente io ti saluto mi è fatto il piacere che hai partecipato a questo video che sei entrato nel mio canale e niente ti lascio 30 secondi se vuoi dire qualcosa nei saluti grazie a tutti e grazie a tutti cercate di pensare prima di sparare pensate è una cosa importante esatto prima di sparare pensa anche diceva una canzone esattamente da quella canzone esatto la possiamo la possiamo anche stendere non a unicamente a sparare i proiettri ma prima di sparare cazate pensate pensa penso che il male di oggi giorno siano tanti pensieri non pensati pensieri non pensati siano davvero molto nocivi per se stessi non solo per gli altri ma in primis per se stessi quindi niente ti saluto anch'io niente alla prossima e fatevi vivi se volete partecipare anche voi ad un formal simile ciao ciao